Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto nel corso di due distinti interventi due vere e proprie fabbriche del falso e 6.000 capi di abbigliamento contraffatti o privi di marchio. Nel corso di un primo intervento le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno sottoposto a sequestro un opificio clandestino e 2.000 capi di abbigliamento contraffatti. In particolare durante un controllo su strada a Cimitile i finanzieri hanno fermato un 48enne che trasportava all'interno della sua autovettura diverse centinaia di articoli privi di documentazione amministrativo fiscale di supporto. Le successive perquisizioni condotte sia presso una società di articoli sportivi di Saviano che nei confronti di una ditta individuale di Ottaviano hanno permesso di ricostruire la filiera di commercializzazione della merce nonché di sequestrare un macchinario composto da sei linee di produzione e una pendrive utilizzati per la creazione dei capi di abbigliamento contraffatto. Denunciate l'autorità giudiziaria tra i responsabili l'autotrasportatore, la rappresentante legale della società e il titolare della ditta individuale. Nel corso di un secondo intervento i baschi verdi del gruppo pronto impiego hanno notato nel quartiere fuori grotta del capoluogo trasferimenti sospetti di merce e fermato un soggetto che usciva da un edificio trasportando grandi buste di celofan contenenti t-shirt prive di marchio. La successiva ispezione dell'abitazione e di due locali nella sua disponibilità ha portato alla scoperta anche in questo caso di un opificio clandestino attrezzato con termopresse per la posizione dei marchi e utilizzato come deposito di circa 4.000 capi già confezionati e pronti per essere messi in vendita. Il responsabile, un 35enne napoletano, è stato denunciato. Le operazioni rientrano nell'ambito della costante azione di contrasto della contraffazione da parte delle fiamme gialle partenopee a difesa non solo del made in Italy e della sicurezza dei prodotti ma anche degli imprenditori onesti e dei consumatori.